Cicci, ti sei fatto il cantato nuovo e non ce lo dici? Vuoi vedere i video, i film, le news? Si, e puoi cantare pure tutte le canzoni che vuoi. Il cantatore, no? Andiamo a lui? Si, ma ho cantato tutta la famiglia. E ora chi è? Quanto è sta l'ocento a volte sto Ora vuoi giochi preziosi